Grazie al chemical polishing è possibile ottenere delle rugosite superficiali inferiori al micron, paragonabili a quelli dello stampaggio iniezione. Il processo chimico fisico non abrasivo consente di lavorare parti con cavità fino a 0,3 mm senza danneggiarle. Il trattamento ha un ridotto impatto energetico ambientale grazie alla possibilità di riutilizzo della gente.